E' la finale play-off del campionato di Serie D, Cerignola contro Taranto, Stadio Monterissi, domani fischio d'inizio previsto alle ore 16. In palio c'è una corsia preferenziale verso il ripescaggio in Serie C. Vigilia dell'atto conclusivo degli spareggi relativi al girone H, di fronte la seconda e la terza classificata al termine della stagione regolare, una contro l'altra fatta, a eccezione per il Picerno dei record, le migliori realtà del raggruppamento. Il pronostico, trattandosi di una finale secca e incerto, la squadra di Dino Bitetto però parte con significativi vantaggi. Il fattore campo, i geloblu sono gli udici del proprio girone a non aver mai perso davanti al proprio pubblico e soprattutto due risultati utili su tre sulla distanza dei 120 minuti. Questo è un traguardo importante, dobbiamo solo portarci a casa i tre punti perché dobbiamo vincere, non dobbiamo vedere che abbiamo due risultati su tre, non dobbiamo entrare in campo per vincere. È bello portare a casa la vittoria e raggiungere un traguardo storico per questa città. Siamo arrivati a questo appuntamento e possiamo scrivere davvero la storia per il Cerignola calcio e questa cosa ci rende fieri e orgogliosi di noi. Ci aspetterà una bella battaglia ma ormai siamo pronti. Cerignola contro Taranto è anche l'esperto Dino Bitetto contro il giovane Gigi Panarelli. Il primo nella passata stagione ha vinto i play-off del girone H alla guida dell'HVS la scorsa estate, poi ripescata tra i professionisti. Ora spera che lo stesso scenario possa ripetersi con la società del presidente Nicola Grieco. Scontato intanto il tutto esaurito domani sulle spalti del Monterisi per una delle partite più importanti della storia calcistica cerignolana, quella che potrebbe, anche se eventualmente con la formula del ripescaggio, spalancare le porte del professionismo ai gialloblu. Abbiamo iniziato questa settimana carichi perché comunque è una bella partita da giocare. Domenica sappiamo che lo stadio è pieno quindi ci siamo caricati e non vediamo l'ora di arrivare domenica. Arriviamo carichissimi anche grazie all'aiuto comunque della città che ci sta sostenendo come ha sempre fatto comunque dall'inizio dell'anno e quindi non vediamo l'ora di dare questa gioia a tutta la città e alla società che lo merita.